hai mai sperimentato il senso del vuoto nella tua vita e adesso più che mai lo sentiamo ancora molto di più quando siamo distanziati o isolati o da soli ma proprio oggi ho letto una bella frase di blaise pascal che diceva nel cuore di ogni uomo c'è un vuoto che ha la forma di dio e che solo dio può riempire per mezzo del suo figlio gesù cristo gesù è questa unica persona che vuole e che può riempire questo vuoto e darti una nuova benedizione una nuova speranza